All'indomani dell'ultimo episodio di violenza verbale e fisica contro una dipendente in servizio al pronto soccorso, il manager della città ospedaliera Renato Pizzuti si dice molto amareggiato per quanto accaduto nel ribadire la gravità di un gesso che già in assoluto deprecabile diviene inaccettabile quando la vittima è una persona che sta svolgendo il proprio lavoro e che si spende quotidianamente in uno dei reparti più complessi dove si lotta ogni giorno per salvare vite. Pizzuti nel ringraziare il questore di Avellino per la collaborazione e l'attenzione dimostrate evidenzia che sono state già intensificate alcune attività di monitoraggio e di prevenzione con l'aumento del numero dei dispositivi di controllo degli ambienti e una maggiore copertura della vigilanza. Proprio in virtù del potenziamento del servizio di polizia con la presenza fissa di un agente nell'area del triage del pronto soccorso e attraverso le immagini delle telecamere a circuito chiuso si è riuscita a ricostruire quanto accaduto. Il direttore generale dell'azienda ospedaliera accenna anche alle ultime contromisure che bisogna adottare per garantire una maggiore sicurezza agli operatori. Ritengo che le tutele sanzionatorie da sole non bastino ad impedire che gli operatori subiscano aggressioni. Non possiamo accettare la violenza e ben vengano i provvedimenti operativi come la flagranza di ferite e più severe misure di deterrenza. Per Pizzuti bisogna trasmettere una percezione chiara di tempo e modalità di assistenza e facendo maturare la giusta idea che persone e luoghi nei contesti sanitari rappresentano un bene comune che va tutelato e salvaguardato. L'azienda ospedaliera sta lavorando all'organizzazione di corsi di formazione per migliorare la comunicazione operatore e utente a tutti i livelli. L'accoglienza, conclude il manager, è la parola chiave dalla quale partire o meglio ripartire per costruire un clima di fiducia e di rispetto che si sta tristemente perdendo.